Guardatevi dall'invidia. 14 febbraio 1978. Figli miei, quanto è gradito al mio cuore che, in mia compagnia, abbiate a vedere quei difetti che è doveroso togliere. Io sono la Divina Giardiniera e, meglio di voi, posso distinguere quelle cose che possono essere dannose alla vostra vita spirituale. E come il giardiniere strappa le erbacce e uccide quelle serpi, che possono togliere la vita ai suoi fiori e alle sue pianticelle, così devo fare io nell'anima vostra. Una delle serpi più velenose che danneggiano l'anima dei cristiani è l'invidia. Dio vuole che i suoi figli si amino come ciascuno ama se stesso. Vuole che ognuno prenda parte alla vita del suo prossimo, così da gioire delle sue gioie e soffrire per le sue pene. Nel mondo non si agisce così. C'è un serpente maligno che dilania il cuore di molti uomini, e che li fa soffrire quando gli altri godono, e gioire quando gli altri soffrono. L'invidia è uno dei peccati capitali, contrari alla carità, da cui hanno origine molti altri mali. Non intendo parlarvi di quel desiderio, che qualche volta si può avere, di essere buoni, bravi, santi come altri, che può portare ad una santa emulazione, ma di quell'astiosità con cui si guarda come di malocchio coloro che hanno di più, sia nel campo spirituale che in quello fisico o materiale. Questa serpe maligna rode l'anima fino ad augurare male agli altri e a portarla ad agire contro, sia con la mormorazione che con la calunnia e coi fatti. Si danneggiano in tal modo le persone, le famiglie e le opere, facendo dell'invidia una spada che colpisce alle spalle. Io desidero che, consapevoli della bruttezza di questo peccato, abbiate a scoprirlo dove si trova, sia per guardarvene, come per aiutare gli altri a toglierlo. È facile che questo vizio si annidi nel cuore fin dall'infanzia, per cui vi prego di essere attenti e maestri nel farne conoscere la bruttezza anche ai bambini, indirizzandoli ad esercitare la bontà e la generosità. Il demonio, che fu il primo invidioso del privilegio avuto dall'uomo, poiché Gesù volle farsi uomo e non è fortemente amico degli invidiosi e li aiuta nelle loro imprese. Avviene così una catena di male, a cui è necessario contrapporre una catena d'amore. Tanto vantaggioso è agli uomini il lavoro a catena, che permette di portare a termine le opere senza interruzione. Anche il bene, fatto così, è molto proficuo alla Chiesa e alla società. Il male, invece, fatto a catena, produce effetti tragici fino a colpire interi paesi. È necessario perciò contrapporre il bene al male, spezzandone le catene. C'è una forza che ha potere sugli uomini e sui demoni, che proviene da Dio, col quale si identifica, è l'amore. Se volete che cessino di rovinare il mondo le forze malefiche, diffondete l'amore. Cominciate a togliere, da voi stessi, quelle piccole cattiverie che contrastano fortemente con la carità, poi procedete con l'amore verso i vostri cari, e parlate loro con chiarezza quando scorgete del malanimo con chiunque. Uno degli apostolati più necessari per questo periodo quaresimale sarà questa pulizia, alla quale parteciperò anch'io aiutandovi in ogni modo. Non manchi mai nelle vostre preghiere la raccomandazione per coloro che vi invidiano, o per coloro che voi aveste invidiato. Sarà un atto di carità ed una riparazione. Ristabilire legami d'affetto tra voi e il vostro prossimo non è sempre cosa facile. Se però partirete dai vostri legami con Dio e gli affiderete coloro che desiderate amare, perdonare ed aiutare, tutto diventerà più facile. Figli, vi benedico tutti. Arrivederci!